L'analisi politica, l'inchiesta giornalistica, la narrativa d'autore sono gli ingredienti che hanno decretato il successo della terza edizione di Conversazioni dal mare, la manifestazione organizzata a Molfetta dall'Associazione Artemia con il patrocinio del Comune. Tra gli ospiti della rassegna l'ex ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che oltre ad approfondire l'analisi della situazione economica italiana contenuta nel suo libro Il sentiero stretto e oltre, ha commentato l'evolversi degli scenari politici nazionali esprimendo un giudizio favorevole alla nascita del nuovo governo giallorosso. C'è uno scenario positivo, almeno inizialmente, che è confermato dal fatto che i mercati finanziari hanno accolto inizialmente con favore positivamente la formazione di un nuovo governo che rispetta la stabilità ed è pro-europeo, rispetta uno scenario in cui invece si prospettava un governo fortemente critico nei confronti dell'Europa e che aveva sempre nella tasca la manovra nascosta che voleva alludere a un'eventuale uscita dall'euro come scorciatoia. Sarebbe stata una scorciatoia pericolosissima per il Paese e io mi auguro che sia ormai definitivamente scongiurata. E per una politica della concretezza invece l'ex ministro dell'Interno e segretario della Lega Roberto Maroni, come spiega nel suo libro Il Rito Ambrosiano, concretezza sostiene che dovrebbe accompagnare anche la nascita di un nuovo centrodestra in Italia. E la concretezza è anche valutare sul piano del consenso elettorale in una nuova coalizione se la vecchia coalizione di centrodestra può sopravvivere o se bisogna cambiare. E oggi bisogna cambiare. Il centrodestra che ho conosciuto io a guida berlusconiana onestamente non esiste più a livello nazionale. Bisogna capire se nascerà un nuovo centrodestra o se ci sarà solo la Lega di Salvini. Conversazioni dal mare ha dato spazio anche all'inchiesta giornalistica con il libro Ti mangio il cuore, l'analisi della mafia foggiana firmata da Giuliano Foschini e Carlo Bonini. Sì, è il racconto dell'emergenza criminale principale in questo momento in Italia e vuole essere una chiamata alla consapevolezza, non tanto di quel territorio quanto piuttosto dell'intera città civile perché il Gargano non resti l'abisso di un non racconto e perché la politica e anche appunto la città civile prendano finalmente le proprie responsabilità. Per gli appassionati di romanzi gialli l'appuntamento da non perdere è stato con Gabriella Genisi, apprezzata scrittrice barese e autrice del noir Pizzica Amara. L'idea di Pizzica Amara nasce dalla voglia di raccontare un Salento completamente diverso da quello che è nell'immaginario della maggior parte dei turisti che vengono in Puglia cercando soltanto spiagge, estate, pizzica e divertimento. Volevo raccontare invece il Salento più vero, quello più profondo nei suoi chiaroscuri, quindi nelle luci e nelle ombre.